Oltre 100 persone, tra donne aderenti alla Ladies Auxiliary, ossia i BPA, i familiari ed amici, hanno partecipato alla camminata di 5 km nel bucolico Etienne Brule Park, il sito nei pressi di Old Mill, nel West End di Toronto. La camminata benefica ha avuto luogo lungo i sentieri del parco che si snodano lungo il fiume Amber, territorio in passato abitato da aborigeni. Siamo qui nel Parco di Chiambrile, che è un parco molto storico, perché i nostri indiani nativi indiani vivono qui nel 1600, e la riva Humber era la ruta dove gli esploratori e i traditori venivano arrivando, e a questo giorno abbiamo preso molta nostra storia con la riva. Il ricavato di 30.000 dollari, dedotto alle minime spese di organizzazione, sarà devoluto a Heroes in Black, organizzazione non a scopo di lucro, che assiste i giovani senza tetto e i giovani a rischio nella città di Toronto. Come si sente? Grazie! Abbiamo avuto 4 chilometri! Si può fare 5 chilometri! Sì! 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 Anche i bambini stanno facendo la riva! La Ladies' Auxiliary of CIBPA, fondata nel 1952 da Giacchi Rosati, è l'organizzazione femminile per eccellenza della comunità italiana alla quale aderiscono donne che donano generosamente il loro tempo e talento alla promozione di iniziative caritatevoli per i bisognosi della nostra comunità. My name is Lisa Lettieri and myself and my other convener, Linda Di Genova, held a 5K walk, Step It Up for Heroes in Black, a charity dedicated to improving the lives of homeless youth. The day was sunny, Etienne Brulee Park was absolutely magnificent today. We had a great walk, great turnout, lots of enthusiasm and I feel very honored to have taken part in this walk and made a small difference in improving lives of the homeless youth. I'd like to thank Linda and Lecha for the wonderful organization that they've done to this event today and they've done a fantastic job and thank the Lord for the good weather and hopefully we've raised a lot of money for Heroes in Black. Hi, I'm Linda Di Genova. I had a wonderful time, Lecha and I had a great time. Hi, my name is Matt Black from Heroes in Black. I just want to thank these lovely ladies for all the hard work that they have put into this event. Together we have helped raise money for a youth center that will help youth follow their dreams. The Ladies Auxiliary presents the film documentary of the title Jackis Ladies, produced by Diana Di Mauro in CMTV, the 15th of 2017 at ICFF, Italian Contemporary Film Festival, with projection at Colossus Theatre in Bonno. and I'll see you next time. I'll see you next time. Bye. Bye.